terminato il diamond painting di quenzui con i diamanti rotondi come prima cosa devo dire che le dimensioni sono effettivamente di 10 centimetri più piccole rispetto a quelle che pensavo di aver acquistato 50 infatti si riferisce alla dimensione della tela non dell'area sulla quale posizionare i diamantini ma errore mio perché nella descrizione del prodotto c'era specificata questa cosa sono io che non era andata a leggere comunque parte questo inconveniente e sono proprio soddisfatta riguardo alla lavorabilità del dp nel senso la tela era adesiva al punto giusto i diamantini sono super saldi nella loro posizione ma era possibile anche riposizionarli molto facilmente qualora si fossero inseriti un po decentrati rispetto al simbolo comunque non nella loro posizione finale è stato proprio piacevole realizzarlo riguardo al risultato finale dello sfondo del dp che raffigura un muro con dei mattoncini bianchi ecco questo non mi entusiasma perché non si capisce bene che cosa raffigura cioè l'immagine che hanno mandato in stampa secondo me era più luminosa rispetto a quella presente nella pagina del prodotto a causa di questo i contorni dei mattoni si sono fatti meno contrastati e quindi sono poco visibili lo stesso problema l'ho anche riscontrato con le perle per quanto riguarda i soffioni invece i colori sono perfetti mixati al punto giusto stesso discorso anche per le farfalle e i fili d'erba in conclusione il dp mi piace è stato molto piacevole realizzarlo il costo veramente ottimo ho speso neanche 12 euro quindi il venditore lo promuovo assolutamente vi do anche un consiglio andate a dare un occhio il suo store perché ha tanti prodotti interessanti come ad esempio i full misti tra special e rotondi i prezzi veramente bassi mi metto il link in descrizione del video